A Marotta durante la notte si è consumato un altro dramma della disperazione. Una donna di 54 anni originaria dell'Interland non ha retto alla rottura della relazione sentimentale con l'uomo con cui si frequentava, un coetaneo del posto. Lei vedova con una figlia grande e lui divorziato. La donna ha preso l'estrema decisione di togliersi la vita impiccandosi a notte fonda nel ballattoio al secondo piano della palazzina di via Nettuno dove abita l'uomo. Secondo i carabinieri che sono arrivati sul posto della tragedia non ci sono dubbi né sulla volontarietà e né sulle motivazioni del gesto della donna. Pare che siano stati ritrovati nell'auto alcuni biglietti a cui lei stessa ha affidato i suoi ultimi pensieri. Ad avvisare le forze dell'ordine sembrerebbe essere stato proprio il suo ex compagno alle 6.30 di questa mattina. Sul posto, oltre al 118, sono arrivate le pattuglie dei carabinieri della stazione di Marotta e del nucleo radiomobile di Fano che stanno ora eseguendo le indagini. Il magistrato ha disposto l'esame autoptico della Salma in data ancora da definirsi.